Oh, ma Mbappé davanti la porta fuori! Sì, 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 Mbappé porta vuota fuori! Porco Dio! Non è possibile! Non ne posso più! Ma vaffanculo, gioco di merda! Ma va a cagare! Dio, porco Dio! 3 a 2 di calcio d'angolo, 3 calci d'angolo di fila! Ma va a cagare! Ma dove sia, casa mia, amiche di você!